Allora eccoci a leggere uno schema per un lavoro all'uncinetto che è composto da una maglia a catenelle una specie di rete più il bordo finale Allora lo schema si legge partendo dal basso quindi in questo caso abbiamo 34 catenelle più una per voltare e le piccole X sono tutte le maglie basse che dobbiamo lavorare sulla catenella quindi io già ho preparato la catenella in questo caso lo schema ci dice che dobbiamo fare 34 catenelle dobbiamo fare una catenella per lavorare il giro dopo e poi prendiamo a fare le maglie basse su tutte le catenelle che abbiamo disponibili ecco qua abbiamo fatto tutta la riga a maglia bassa ora lo schema cosa ci dice che una volta terminata la riga a maglia bassa dobbiamo fare una piccola catenella che serve per voltare il lavoro dopodiché facciamo 1 2 3 ulteriori catenelle e ci fermiamo con una maglia bassa dopo averne saltate due quindi una catenella per voltare giriamo il lavoro continuiamo a leggere sempre da sinistra verso destra 1 2 3 maglie 3 catenelle una due tre saltiamo le due maglie basse del giro precedente e facciamo una maglia bassa sulla successiva quindi saltiamo questa 1 2 sulla terza facciamo la maglia bassa ecco qua continuiamo in pratica questo giro facendo 3 catenelle saltando le due maglie basse e aggangiandoci con una maglia bassa alla successiva questo fino alla fine allora sono arrivata alla fine del del giro manca l'ultimo elemento quindi 1 2 3 catenelle 2 e la fermiamo fermiamo queste catenelle con una maglia bassa ok in pratica abbiamo tanti archetti tanti occhielli ora dobbiamo passare al terzo giro quindi lo schema ci dice fare 3 catenelle allora in pratica sarebbero 2 per voltare più 1 quindi facciamo così 1 catenella 2 catenelle giriamo facciamo la terza o naturalmente io voglio ricordare che non sono un'esperta ho imparato da sola e quindi se c'è qualche errore nella mia spiegazione da parte delle più esperte è gradito una una correzione che in fondo siamo tutte qui per imparare quindi abbiamo fatto le 3 catenelle ora con la maglia bassa ci agganciamo alla terza maglia la maglia centrale dell'archetto del giro precedente anche qui mi piacerebbe sapere se la cosa migliore da fare è agganciarsi proprio lavorare la maglia bassa dentro la maglietta dentro la catenella centrale che abbiamo nell'archetto oppure se è sufficiente come piace fare a me forse in modo più sbrigativo fermarci in questo modo poi scegliete voi insomma continuiamo facendo 3 catenelle e agganciandoci al centro dell'archetto sottostante ecco qui continuiamo fino alla fine del giro arrivata la parte finale del terzo giro in pratica dobbiamo fare come chiusura una catenella e una mezza maglia alta nella catenella sottostante quindi una catenella allora in pratica io ho terminato con quest'ultimo archetto ora dobbiamo fare una catenella e dobbiamo agganciarci con una mezza maglia alta alla maglietta sottostante in modo che abbiamo un mezzo archetto vedete non è completo però chiudendo con la mezza maglia alta diamo l'altezza giusta al al punto ora dobbiamo passare al quarto giro per il quarto giro non dobbiamo far altro che lavorare una catenella per voltare poi di nuovo tre catenelle una maglia bassa al centro dell'archetto sottostante e continueremo in questo modo fino alla fine del quinto giro in pratica in pratica in pratica con i cinque giri terminiamo la parte lavorata con gli archetti a tre catenelle ora iniziamo la parte di schema in cui troviamo l'archetto formato da quattro catenelle la lavorazione la lavorazione sarà sempre la stessa allora dall'ultimo giro che abbiamo fatto facciamo la catenella per voltare poi quattro catenelle e agganciamo l'archetto precedente l'archetto del giro precedente con una maglia bassa e ripetiamo fino a fine giro una volta che ci siamo fermati a questo punto con la maglia bassa dobbiamo lavorare tre catenelle volanti per girare più due perché le maglie l'archetto ora rimane un pochettino più grande perché è formato da quattro catenelle mentre prima se notate abbiamo due catenelle più una ora per voltare dobbiamo fare tre catenelle più due e continuiamo fermandoci bloccando l'archetto con una maglia bassa al centro dell'archetto precedente ogni volta ripetiamo la stessa cosa fino ad arrivare alla fine del giro in cui dopo l'ultimo archetto pieno completo che lavoriamo lo fermiamo con la maglia bassa dobbiamo fare due catenelle ed una maglia alta mentre potete vedere benissimo la differenza con i giri precedenti degli archetti lavorati con tre catenelle abbiamo fatto semplicemente una maglia a una catenella e mezza maglia alta quindi si fanno questi due giri con gli archetti composti da quattro catenelle una volta fatti questi due giri iniziamo l'altra serie di archetti che invece è formata da cinque catenelle uno due tre quattro cinque possiamo contare benissimo queste cinque catenelle vanno fermate sempre con la maglia bassa al centro dell'archetto precedente dell'archetto sottostante e lavoriamo sempre alla stessa maniera con cui abbiamo lavorato la striscia da quattro vedete qui si gira voltiamo tre due cinque catenelle per voltare in pratica la stessa lo stesso numero di catenelle utilizzate per voltare l'archetto da quattro catenelle le righe dell'archetto da quattro catenelle facciamo questo tratto questa porzione di lavoro con le cinque catenelle fino ad un ventiseiesimo giro a questo punto cominceremo il bordo con il bordo c'è l'archezione di o il bordo il bordo di di che si si c'è una